Come si spiega il locale? Il locale fondamentalmente è un'esperienza, perché è un posto fisico, un luogo, una struttura che ti permette realmente di fare tante cose, pur non spostandosi parecce. È una casa con all'interno un nucleo familiare vero e proprio, perché questo è un appartamento, un appartamento dove ci siamo noi, infatti ogni tanto viene la mamma, la mamma non fa niente, siamo lì alla casa, sta lì seduta, ogni tanto mi faccio chiamare pure dal balconcino dalla mamma, perché questo è simpatico, la colta, dai sali sotto! Ciao! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.